Lezione 41. Ho appena avuto un bambino. Ciao Anna, stai benissimo oggi. Ehi, hai sentito la notizia? Ho appena avuto un bambino. Oh wow, congratulazioni! Questa è una notizia incredibile. Va tutto bene con te e il bambino? Sì, è andato tutto liscio. Il bambino è sano e sta benissimo. È meraviglioso. Qual è il nome del bambino? L'abbiamo chiamata Emily. È così piccola e adorabile. Non vedo l'ora che tu la conosca. Mi piacerebbe molto. Quando hai intenzione di riportarla a casa? Dovremmo essere dimessi dall'ospedale tra un paio di giorni. Mi assicurerò di chiamarti quando saremo a casa. Suona bene. Ancora congratulazioni. Essere genitori è un viaggio incredibile e sono così felice per entrambi. Ehi Angela, perché sorridi? Guarda questa foto della mia gatta. Non è la più carina? Oh wow, è adorabile. Qual è il suo nome? Il suo nome è Luna. È una gatta così adorabile. Fa sempre le fuse e si coccola accanto a me. Si vede che è ben curata. Quanti anni ha? Ha solo un anno. L'abbiamo presa da un rifugio quando era una gattina. È fantastico che tu l'abbia adottata. Anch'io amo i gatti. Ho due gatti a casa. È fantastico. Quali sono i loro nomi? Si chiamano Simba e Nala. Sono anche entrambi soccorritori. Amano giocare insieme e mi fanno sempre divertire. È bello vedere così tante persone adottare animali domestici invece di comprarli nei negozi di animali. È importante dare a questi animali una seconda possibilità di vivere una vita felice. Assolutamente, non potrei essere più d'accordo. Luna e gli altri tuoi animali domestici sono fortunati ad averti come padrone. Lezione 43. Il mio nuovo computer. Ehi Susan, è il tuo nuovo computer? Sembra fantastico. Sì. È così veloce e potente. Davvero? Che tipo hai preso? Ho un MacBook Pro nuovo di Zecca. È l'ultimo modello, con il chip M1 e tutto il resto. Davvero figo. Come ha funzionato per te finora? È stato fantastico. Ora posso fare tutto il mio lavoro e i miei progetti molto più velocemente. E la grafica è incredibile. Stavo pensando di comprarmi un nuovo computer. Cosa ti ha fatto decidere di acquistare un MacBook Pro? Beh, sono sempre stato un utente Mac e avevo bisogno di qualcosa con molta potenza, e spazio di archiviazione per il mio lavoro. E il nuovo chip M1 dovrebbe essere davvero impressionante. Sì, ho sentito parlare molto del chip M1. Potrei dover prendere in considerazione l'idea di acquistare anche un MacBook Pro. Lo consiglio vivamente. È un po' costoso, ma ne vale la pena per la qualità e le prestazioni che ottieni. Grazie per la raccomandazione. Dovrò dare un'occhiata. Lezione 44. Piantare fragole. Ciao, cosa hai fatto ultimamente? Ultimamente sono molto occupato al lavoro. Che ne dici di recente? Ehi, sono stato occupato a piantare un orto di fragole nel mio giardino. Adoro le fragole, quindi ho pensato che sarebbe stato divertente provare a coltivarle da sole. Sembra un'ottima idea. Hai già delle fragole? Non ancora, stanno ancora crescendo. Ma spero di avere un buon raccolto tra qualche settimana. Anche a me piacciono le fragole. Sono così dolci e deliziosi. Hai piani speciali per loro una volta pronti? Beh, stavo pensando di fare della marmellata di fragole o magari anche di provare a preparare una torta alle fragole. Gnam, sembra incredibile. Mi piacerebbe provarne un po'. Hai intenzione di vendere le tue fragole? Non ci ho mai pensato, ma suppongo che potrei venderne un po' se finissi con più di quello che posso mangiare. Sicuramente fammi sapere se lo fai. Mi piacerebbe comprare da te delle fragole fresche coltivate in casa. Certo, sarei felice di condividerlo. Ti piace mangiare le fragole da sole o hai qualche ricetta preferita? Mi piace mangiarli da soli, o in una macedonia di frutta, ma adoro anche la crostata alla fragola. Sembra delizioso. Dovrò provare a farlo anche io. Lezione 45. Questo hamburger è delizioso. Ehi, l'hamburger è buono? Questo hamburger è così delizioso. L'hai provato? No, non l'ho fatto. Dove l'hai preso? L'ho preso da quel nuovo ristorante di hamburger in fondo alla strada. Hanno alcuni dei migliori hamburger che abbia mai assaggiato. Davvero? Dovrò provarlo qualche volta. Che tipo di hamburger hai mangiato? Ho preso il classico cheeseburger con pancetta e avocado. È così succoso e saporito. Sembra incredibile. Mi viene fame solo a pensarci. Hanno altre opzioni di hamburger? Sì, hanno un sacco di hamburger diversi, compresi alcune opzioni vegetariane. Hanno anche un hamburger con sopra un uovo fritto. È decisamente unico. Adoro provare nuovi e interessanti condimenti per hamburger. Hanno contorni o bevande che consiglieresti? Le loro patatine fritte sono piuttosto buone, ma consiglio vivamente di provare i loro frappè. Hanno così tanti gusti tra cui scegliere e sono tutti fantastici. Dovrò ricordarlo. Grazie per la raccomandazione. Non vedo l'ora di provare questo posto di persona. Lezione 46. Hai mai inviato posta aerea? Ehi, hai mai inviato posta aerea prima? Posta aerea? Vuoi dire come spedire una lettera in aereo? Sì, esattamente. Voglio mandare una lettera a un amico che vive all'estero e stavo pensando di usare la posta aerea per assicurarmi che arrivi velocemente. Questa è una buona idea. Ho già inviato posta all'estero, ma di solito uso solo posta ordinaria. Quanto costa di più la posta aerea? Di solito è un po' più costoso della posta ordinaria, ma i tempi di consegna sono molto più rapidi. Inoltre, puoi tracciare il pacco online per vedere quando viene consegnato. Sembra conveniente. Ho sentito dire che a volte la posta internazionale può andare persa o subire ritardi, quindi è bene avere quella tranquillità. Esattamente. E visto che è una lettera a un amico, voglio assicurarmi che arrivi il prima possibile. Non voglio che debbano aspettare troppo a lungo per sentirmi. Ti capisco benissimo. Hai bisogno di aiuto con le spese di spedizione o la compilazione del modulo doganale? In realtà, sarebbe fantastico. Non sono sicuro di quali siano i requisiti per l'invio di posta all'estero. Nessun problema posso aiutarti in questo. Andiamo all'ufficio postale e sistemiamo tutto. Lezione 47. La montagna più alta del mondo. Sapevi che l'Everest è la montagna più alta del mondo? Sì, l'ho fatto. Si trova sull'Himalaya, giusto? Esattamente. È alta a 29.029 piedi, il che la rende la montagna più alta del mondo. È incredibile. Hai mai scalato una montagna prima? No, non l'ho fatto. Ho fatto delle escursioni e mi sono accampato, ma niente di così estremo. Sì, scalare l'Everest non è sicuramente per i deboli di cuore. È una salita pericolosa e difficile, e solo gli scalatori esperti dovrebbero tentarla. Ho sentito dire che la stagione delle arrampicate dura solo pochi mesi all'anno e che gli alpinisti devono acclimatarsi all'altitudine prima di tentare la vetta. Giusto. E anche con tutta la preparazione, è ancora un'impresa rischiosa. Ci sono stati molti incidenti e morti sulla montagna nel corso degli anni. È sicuramente un'impresa di forza e resistenza umana a scalare la cima del Monte Everest. Ho molto rispetto per chi ci prova. Anch'io. Forse un giorno potremo fare qualche alpinismo insieme, ma iniziamo con qualcosa di un po' meno estremo dell'Everest. Lezione 48. Volontariato. Hai mai fatto volontariato prima? Sì, l'ho fatto. Facevo volontariato in un rifugio per animali locale e mi è piaciuto molto. Questo è fantastico. Stavo pensando di fare volontariato anch'io, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante organizzazioni diverse che potrebbero usare i volontari. Dipende davvero da cosa sei interessato. Beh, mi appassiona aiutare i senza tetto. Conosci qualche organizzazione che si concentra su questo? Sì, ci sono alcune organizzazioni nella nostra città che lavorano con la popolazione senza tetto. C'è un rifugio per senza tetto che cerca sempre volontari per aiutarli con i pasti e altre attività. Sembra un'ottima idea. Penso che esaminerò la cosa. Quanto tempo è richiesto di solito per il volontariato? Dipende molto dall'organizzazione e dal progetto specifico su cui stai lavorando. Alcuni potrebbero richiedere solo poche ore a settimana, mentre altri potrebbero richiedere un impegno maggiore. Questo ha senso. Voglio sicuramente dare una mano, ma ho anche un lavoro a tempo pieno e altre responsabilità da sbrigare. Sì, può essere un atto di equilibrio. Ma anche se puoi fare volontariato solo poche ore alla settimana, o al mese, può fare una grande differenza nella vita di qualcuno. Sono d'accordo penso che sia importante restituire qualcosa alla comunità e il volontariato è un ottimo modo per farlo. Grazie per il suggerimento. Lezione 49. Preparare l'attrezzatura per l'escursionismo Ehi, sei pronto per la nostra escursione questo fine settimana? Quasi. Devo ancora preparare la mia attrezzatura. Hai già impacchettato tutto? Sì, l'ho fatto. Ho fatto un elenco di tutti gli elementi essenziali di cui avremo bisogno, così sono stato in grado di imballare tutto in modo efficiente. Questo è intelligente. Probabilmente dovrei fare anche una lista, per non dimenticare nulla di importante. Sicuramente. Dobbiamo assicurarci di avere abbastanza acqua, snack e forniture di pronto soccorso. E dovremmo anche controllare le previsioni del tempo per sapere che tipo di abbigliamento e attrezzatura portare. Questo è un buon punto. Mi assicurerò di portare un impermeabile e degli strati caldi, nel caso in cui il tempo cambi. Ottima idea. E non dimenticare di indossare prima le scarpe da trekking, in modo da non avere vesciche sul sentiero. Giusto. Me ne ero quasi dimenticato. L'indosserò in giro per casa per qualche giorno prima del viaggio. Inoltre, assicurati di portare una mappa e una bussola, nel caso in cui perdessimo la strada sul sentiero. Bel modo di pensare. Hai già un kit di pronto soccorso confezionato? Sì, ne ho uno piccolo con bende, antisettici e antidolorifici. Ma dovremmo portare anche della crema solare e del repellente per insetti. Suona bene. Penso che siamo ben preparati per la nostra escursione. Non vedo l'ora di mettermi in pista. Lezione 50. Organizzazione di viaggi di lavoro Salve, avete iniziato a prepararvi per il viaggio di lavoro della prossima settimana? Sì, l'ho fatto. Dobbiamo visitare più paesi, quindi sto cercando di organizzare tutto. Giusto. Abbiamo molto da fare. Hai tutti i documenti di viaggio necessari, come visti e passaporti? Sì, ho controllato e mi sono assicurato che tutti i documenti necessari siano in ordine. Ho anche confermato i nostri voli, e le prenotazioni alberghiere. Buon lavoro. Hai preparato un itinerario per ogni paese che visiteremo? Sì, l'ho fatto. Ho studiato le usanze locali, le differenze culturali e le pratiche commerciali di ogni paese, e ho preso appunti su cosa dovremmo fare ed evitare. Questo è fantastico. Che mi dici del trasporto? Avete organizzato il trasporto dall'aeroporto all'hotel in ogni paese? Sì, ho preso accordi affinché un autista venga a prenderci all'aeroporto e ci porti in hotel in ogni paese. E per i giorni in cui abbiamo riunioni, ho organizzato un'auto a noleggio o un autista per portarci ai luoghi delle riunioni. Eccellente hai un elenco di tutti i contatti commerciali che incontreremo in ogni paese? Sì, lo so. Ho già inviato email a ciascun contatto per confermare gli orari e i luoghi delle riunioni. E mi sono assicurato di avere le loro informazioni di contatto nel caso avessimo bisogno di contattarli mentre siamo nel loro paese. Sembra che tu abbia pensato a tutto. Sono contento di averti nel nostro team per questo viaggio. Grazie. Sto solo cercando di assicurarmi che tutto vada liscio. Con tutti i paesi che visiteremo, non possiamo permetterci di commettere errori. Lezione 51. Riparazione auto Ehi, hai notizie sulla riparazione dell'auto? L'ho lasciato al meccanico stamattina. No, non ho ancora sentito niente. Cosa c'è che non va con la macchina? Ha emesso strani rumori e i freni stanno facendo rumore. Penso che possa essere un problema con le pastiglie dei freni. Oh, non va bene. Hai parlato al meccanico dei rumori e dei problemi con i freni? Sì, l'ho fatto. Ci daranno un'occhiata e mi faranno sapere cosa bisogna fare. Hai idea di quanto tempo ci vorrà per riparare l'auto? Dipende da cosa deve essere riparato, ma speriamo che non ci vorrà troppo tempo. Chiamerò il meccanico più tardi per verificare i progressi. Questa è una buona idea. Hai chiesto loro il costo delle riparazioni? Sì, ho ricevuto un preventivo prima di lasciare l'auto con loro. Non è economico, ma è necessario ripararlo in modo da poter usare l'auto in sicurezza. Sono d'accordo non vogliamo mettere a rischio la nostra sicurezza o quella degli altri sulla strada. Fammi sapere cosa dice il meccanico e scopriremo i passaggi successivi. Lo farà. Grazie per il tuo supporto. Lezione 52. Soldi in tasca per bambini Ehi, stavo pensando di dare dei soldi in tasca a nostro figlio. Cosa ne pensi? Certo, penso sia una buona idea. Insegnerà a nostro figlio il valore del denaro e come gestirlo. E' esattamente quello che stavo pensando. Quanto pensi che dovremmo dargli? Beh, dipende dalla sua età e da cosa deve usare i soldi. Dovremmo discutere e concordare un importo ragionevole. Sì, ha senso. Possiamo iniziare con una piccola quantità e aumentarla nel tempo man mano che diventa più responsabile. D'accordo. Dovremmo anche parlargli dell'importanza di risparmiare e spendere con saggezza. Assolutamente. Possiamo creare un sistema semplice per lui per tenere traccia delle sue spese e dei suoi risparmi. E' un'ottima idea. Sono entusiasta di vedere come gestisce la sua paghetta e come impara da essa. Anch'io. Parliamone con lui e vediamo cosa ne pensa. Lezione 53. Visita dei genitori Ehi, hai già parlato con i tuoi genitori della loro visita? Non ancora stavo aspettando il momento giusto per parlarne. Perché me lo chiedi? Volevo solo sapere se hanno deciso una data per la loro visita. Sarebbe bene pianificare in anticipo e assicurarsi che tutto sia pronto per loro. Questo è vero. Li chiamerò e vedrò cosa hanno in mente. Ottimo. Dovremmo anche pensare a quali attività possiamo fare con loro mentre sono qui. Sicuramente. Amano passare il tempo con i nostri bambini, così possiamo pianificare insieme delle gite e dei pasti divertenti. Stavo anche pensando di portarli in alcune delle famose attrazioni turistiche della nostra città. Potrebbero divertirsi a vederli. Questa è una buona idea. Possiamo anche chiedere loro se hanno luoghi specifici che vorrebbero visitare. Sì, questo è un buon punto. Dovremmo assicurarci che trascorrano un soggiorno confortevole e che tutto sia curato. D'accordo. Li chiamerò e ti farò sapere cosa dicono. Lezione 54. Nuovo vicino. Hai già conosciuto il nostro nuovo vicino? Sembra davvero carina. Sì, l'ho conosciuta ieri mentre portavo fuori la spazzatura. Si è presentata ed è stata molto cordiale. È bello sentirlo. Anch'io ho avuto la possibilità di parlare con lei e sembra una persona davvero solidale. Sono d'accordo sono rimasta sorpresa quando si è offerta di aiutarmi con la spesa. È stata davvero gentile da parte sua. Sì, sembra molto premurosa. Penso che sia positivo avere vicini solidali, soprattutto perché siamo nuovi in questa zona. Assolutamente. È bello sapere che possiamo contare su di lei se abbiamo bisogno di qualcosa o abbiamo domande. Stavo pensando di invitarla a cena qualche volta per conoscerla meglio. Cosa ne pensi? Penso che sia un'ottima idea. Dovremmo assolutamente farlo. Possiamo organizzare un buon pasto e avere la possibilità di parlare di più con lei. Sì, e forse possiamo anche farle visitare la zona e presentarla ad alcuni degli altri vicini. Questa è una buona idea. Qui possiamo conoscerci tutti e creare un senso di comunità. Esattamente. Sono contenta che abbiamo un vicino così buono, vivere qui è ancora migliore. Ehi, chi era il tuo insegnante preferito a scuola? Oh, questa è una domanda difficile. Ne avevo alcuni buoni, ma credo che il mio preferito fosse il signor Johnson, il mio insegnante di inglese al liceo. Ha reso l'apprendimento così divertente e coinvolgente. Davvero? Cosa c'era di così speciale in lui? Beh, per prima cosa, ha sempre avuto un grande senso dell'umorismo. Faceva battute e usava esempi pertinenti alla nostra vita, in modo che potessimo relazionarci con ciò che stavamo imparando. Che figata! Aveva qualche metodo di insegnamento particolare che ricordi? Sì, aveva un approccio davvero creativo all'insegnamento. Utilizzava molte attività diverse come giochi di ruolo, discussioni di gruppo e persino concorsi di scrittura per aiutarci a imparare. Wow, sembra un modo divertente per imparare. Ti sono piaciute di più le lezioni di inglese grazie a lui? Sicuramente. Avevo paura delle lezioni di inglese, ma con il signor Johnson non vedevo l'ora di vederle. Mi ha ispirato a leggere di più e scrivere meglio. È fantastico. È incredibile l'impatto che un buon insegnante può avere sulla nostra vita. Sì, lo è. Mi sento davvero fortunato ad aver avuto un insegnante così eccezionale e spero che altri studenti possano provare lo stesso tipo di gioia nell'imparare che ho provato io con il signor Johnson. Sono d'accordo. Dovremmo essere tutti grati agli insegnanti che ci hanno aiutato a diventare ciò che siamo oggi. Lezione 56. Le persone più ricche del mondo. Ti sei mai chiesto chi sono le persone più ricche del mondo? Sì, l'ho fatto. Ho sentito che cambia continuamente, a seconda del mercato azionario e di altri fattori. Questo è vero. Secondo Forbes, l'attuale persona più ricca del mondo è Elon Musk, con un patrimonio netto di oltre 200 miliardi di dollari. Wow, sono un sacco di soldi. Che tipo di attività svolge? È il fondatore e CEO di SpaceX, Tesla e altre società. È un vero innovatore nei settori della tecnologia e dello spazio. Interessante. Chi altro c'è sulla lista? La seconda persona più ricca è Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, con un patrimonio netto di oltre 170 miliardi di dollari. Poi c'è Bill Gates, il cofondatore di Microsoft, con oltre 130 miliardi di dollari. Sono dei grandi nomi. È incredibile quanta ricchezza abbiano accumulato. Lo è. Ma è anche importante ricordare che da una grande ricchezza derivano grandi responsabilità. Molti di questi miliardari sono filantropi e donano ingenti somme di denaro a cause caritatevoli. Questo è vero. È bello vedere che stanno usando la loro ricchezza per avere un impatto positivo sul mondo. Sì, ed è anche fonte di ispirazione vedere cosa si può ottenere con il duro lavoro, l'innovazione e l'imprenditorialità. Sicuramente. È sempre interessante conoscere le persone di successo e ciò che hanno realizzato. Lezione 57. Sogna di andare nello spazio. Hai mai sognato di andare nello spazio? Oh, assolutamente. Penso che sarebbe un'esperienza incredibile vedere la Terra dall'alto ed esplorare l'ignoto. Sono completamente d'accordo. Il solo immaginare la vastità dello spazio e la bellezza del cosmo è impressionante. Sono sempre stato affascinato dallo spazio, e l'idea di viaggiare su altri pianeti è sbalorditiva. Sarebbe un sogno che si avvera. Sì, è sicuramente qualcosa che richiede molta preparazione e allenamento. Ma con aziende come SpaceX e Blue Origin che stanno facendo passi da gigante nei viaggi spaziali commerciali, in futuro potrebbe essere più accessibile. Questo è vero. Ho seguito le notizie sul turismo spaziale, ed è emozionante pensare che la gente comune potrebbe un giorno avere la possibilità di andare nello spazio. Sarebbe sicuramente un'opportunità che capita una volta nella vita. Posso solo immaginare la sensazione di assenza di gravità e la vista dall'alto della Terra. E pensa a tutte le scoperte scientifiche che potrebbero essere fatte attraverso l'esplorazione dello spazio. Non si tratta solo di fare esperienza, ma anche di far progredire la nostra conoscenza dell'universo. Assolutamente. Le possibilità sono infinite. Chissà, forse un giorno saremo in grado di trasformare il nostro sogno in realtà e andare nello spazio da soli. Lezione 58. Suggerimenti per dormire prima. Ultimamente ho problemi ad addormentarmi. Hai qualche consiglio per dormire prima? Certo, ci sono alcune cose che puoi provare. Innanzitutto, è importante stabilire una routine del sonno coerente. Vai a letto e svegliati alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana. Questo ha senso. Ho sentito dire che mantenere un programma di sonno regolare può aiutare a regolare l'orologio interno del corpo. Esattamente. Un'altra cosa che puoi provare è creare una routine rilassante prima di andare a dormire, come fare un bagno caldo, leggere un libro o meditare. Sembra una buona idea. Ho letto prima di andare a letto, ma forse ho bisogno di incorporare altre attività rilassanti nella mia routine. Un'altra cosa che potresti prendere in considerazione è limitare l'esposizione agli schermi prima di andare a dormire. La luce blu dei dispositivi elettronici può disturbare il sonno. Questo è un buon punto. Mi sono reso colpevole di aver sfogliato il mio telefono prima di andare a letto, quindi forse devo ridurlo. Infine, assicurati che il tuo ambiente di sonno sia confortevole e favorevole al sonno. Ciò significa mantenere la camera da letto fresca, silenziosa e buia. Ok, proverò ad apportare alcune modifiche e vediamo se mi aiuta ad addormentarmi prima. Grazie per i suggerimenti. Nessun problema dolci sogni. Lezione 59. Cucinare per cena stasera. Cosa hai voglia di mangiare per cena stasera? Non lo so. Cosa abbiamo in cucina? Diamo un'occhiata abbiamo del pollo, delle verdure e della pasta. Che ne dici se facciamo una frittura? Sembra una buona idea. Abbiamo delle salse o delle spezie per aggiungere un po' di sapore? Abbiamo salsa di soia, aglio e zenzero. Questo dovrebbe dargli un buon sapore asiatico. Ottimo! Comincerò a tagliare le verdure e tu potrai preparare il pollo. Sembra un piano. Dovremmo preparare anche della pasta per accompagnarlo? Certo! Possiamo far bollire dell'acqua mentre cuociamo il soffritto. Hai bisogno di aiuto con le verdure? In realtà, puoi iniziare a cucinare il pollo mentre finisco di tagliare le verdure? Certo! Inizierò a scaldare la padella adesso. Vuoi che aggiunga prima l'aglio e lo zenzero? Sì! Iniziamo con quello per dare un po' di sapore al pollo. Bene! L'aglio e lo zenzero stanno sfrigolando ora. Aggiungerò il pollo tra un minuto. Perfetto! Comincio a far bollire la pasta adesso. Sarà una cena deliziosa! Lezione 60. Assumere un nuovo personale. Siamo stati impegnati ultimamente e penso che dobbiamo assumere un nuovo membro dello staff per aiutarci. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Sta diventando difficile gestire tutto solo con noi due. A che tipo di ruolo stai pensando? Stavo pensando di assumere qualcuno che mi assistesse nelle attività amministrative, come rispondere alle e-mail, fissare appuntamenti e organizzare i documenti. Questa è una buona idea. Potremmo anche cercare qualcuno con esperienza nel servizio clienti, dato che interagiamo parecchio con i clienti. Questo è un buon punto. Conosci qualche sito web di annunci di lavoro che possiamo utilizzare per trovare candidati? Sì, ci sono alcuni siti di lavoro popolari che possiamo provare, come Indeed e LinkedIn. Possiamo anche pubblicare il lavoro sulle nostre pagine di social media per raggiungere un pubblico più ampio. Sembra un piano. Mettiamo insieme una descrizione del lavoro e iniziamo a pubblicarla online. Dovremmo anche pensare al processo di intervista e alle domande che vogliamo porre ai potenziali candidati. Bene, dobbiamo assicurarci di trovare qualcuno adatto al nostro team e che abbia le competenze e l'esperienza necessarie. Potrebbe essere una buona idea coinvolgere il nostro attuale personale nel processo di assunzione, poiché lavorerà a stretto contatto con il nuovo assunto. Questo è un buon suggerimento. Cominciamo con la descrizione del lavoro e iniziamo a contattare i potenziali candidati. Lezione 61. Siamo amici da oltre dieci anni. È pazzesco pensare che siamo amici da più di dieci anni. Lo so, sembra proprio ieri quando ci siamo incontrati al college. La nostra amicizia ha davvero superato la prova del tempo. Ne abbiamo passate tante insieme. Lo stesso vale per me. È inestimabile avere qualcuno come te nella mia vita su cui posso sempre contare. Penso che la nostra amicizia sia così forte perché siamo sempre stati onesti e aperti l'uno con l'altro. Sì, non esitiamo mai a dirci la verità, anche se non è quello che vogliamo sentire. E troviamo sempre del tempo l'uno per l'altro, non importa quanto siano fitti i nostri impegni. È così importante. Entrambi abbiamo le nostre vite e le nostre responsabilità, ma diamo sempre la priorità alla nostra amicizia. È raro trovare un'amicizia come la nostra. Mi sento così fortunato ad averti nella mia vita. Lo stesso qui. Non riesco a immaginare di vivere senza di te al mio fianco. Ecco altri dieci anni di amicizia e oltre. Complimenti per questo. Lezione 62. Piantare un nuovo albero Ehi, hai mai pensato di piantare un nuovo albero nel nostro giardino? È un'ottima idea. Ho sempre voluto avere più alberi nel nostro giardino. Sì, stavo pensando che magari potremmo piantare un albero da frutto. Potremmo avere frutta fresca nel nostro giardino. Sembra delizioso. A che tipo di albero da frutto stavi pensando? Pensavo a un pesco. Sono facili da coltivare e producono molta frutta. Adoro le pesche. Facciamolo. Ok, dobbiamo scegliere un buon posto nel cortile con molta luce solare e un buon drenaggio. E dobbiamo assicurarci che il terreno sia buono per la semina. Forse dovremmo fare qualche analisi del terreno. Questa è una buona idea. Possiamo anche verificare con un vivaio locale quale tipo di terreno funziona meglio per i peschi. E dobbiamo assicurarci di avere tutti gli strumenti necessari per la semina, come una pala e del fertilizzante. Giusto. E dovremmo anche pensare all'irrigazione e alla cura dell'albero dopo averlo piantato. Sarà un progetto divertente. Non vedo l'ora di mangiare pesche fresche dal nostro albero. Nemmeno io. Cominciamo a pianificare e preparare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per piantare l'albero. Lezione 63. Nuovo itinerario escursionistico. Ehi, hai sentito parlare del nuovo percorso escursionistico appena aperto nella vicina catena montuosa? No, non l'ho fatto. Dimmi di più a riguardo. È un sentiero abbastanza difficile, ma dovrebbe essere uno dei più belli della zona. Lo scenario dovrebbe essere assolutamente mozzafiato. Sembra incredibile. Adoro le sfide e sono sempre pronto per una bella escursione. Sì, ho pensato che potesse essere qualcosa che potremmo fare insieme. Sarà una grande opportunità per noi per trascorrere del tempo di qualità all'aperto. Sono decisamente interessata. Quando pensavi di andarci? Pensavo che potremmo andarci il prossimo fine settimana, se per te va bene. Potremmo iniziare la mattina presto e prenderci il tempo necessario lungo il sentiero. Sembra perfetto. Sai quanto dura l'escursione? Sono circa 10 miglia, quindi probabilmente ci vorrà gran parte della giornata. Ma possiamo fermarci e fare delle pause ogni volta che ne abbiamo bisogno. A me sembra una buona idea. Cosa dobbiamo portare? Avremo bisogno di molta acqua, snack e crema solare. E dovremo indossare scarpe da trekking comode e robuste. Ho tutto questo, quindi penso che siamo pronti per partire. Ottimo, non vedo l'ora. Sarà un'avventura. Lezione 64. Abbiamo così tante cose ovunque a casa. Hai notato quanto si è diventata disordinata la nostra casa ultimamente? Sembra che abbiamo così tanta roba ovunque. Sì, era da un po' che volevo fare le pulizie e riordinare, ma non ne ho avuto il tempo. So cosa intendi. Ma penso che stia davvero iniziando a sfuggirci di mano. Probabilmente dovremmo dedicare un fine settimana o un giorno per affrontare davvero il caos. Questa è una buona idea. Pensi che dovremmo iniziare con una stanza alla volta o esaminare tutto in una volta? Penso che dovremmo iniziare con una stanza alla volta. In questo modo non saremo troppo sopraffatti dal caos. Ok, iniziamo con il soggiorno. Abbiamo molte vecchie riviste e libri di cui non abbiamo più bisogno. Sì, e probabilmente possiamo sbarazzarci di alcune di quelle vecchie decorazioni e soprammobili che non usiamo mai. Sicuramente. E penso che dovremmo anche frugare nei nostri armadi e sbarazzarci dei vestiti o delle scarpe che non indossiamo più. D'accordo. Possiamo donare tutto ciò che è ancora in buone condizioni. E penso che dovremmo stabilire una regola per non portare niente di nuovo in casa a meno che non ne abbiamo assolutamente bisogno. È un'ottima idea. Cominciamo con il disordine e poi possiamo concentrarci sul mantenere le cose minime in futuro. Sembra un piano. Facciamo del caffè e iniziamo. Lezione 65. Controllare l'inventario nel magazzino Ehi, hai controllato l'inventario nel magazzino ultimamente? Non recentemente. Perché? Pensi che dobbiamo rifornire qualcosa? Sì, stavo pensando che dovremmo fare un rapido controllo per vedere se c'è qualcosa che stiamo esaurendo. Questa è una buona idea. Pianificherò un orario per effettuare un controllo dell'inventario questa settimana. Bene, assicuriamoci di avere abbastanza oggetti popolari, come i widget blu e i widget rossi. E dovremmo anche controllare i livelli delle materie prime che utilizziamo per realizzare i nostri prodotti, come l'acciaio e la plastica. Sicuramente. Non voglio esaurire quei materiali e ritardare il nostro programma di produzione. Mi assicurerò anche di controllare tutti i prodotti con date di scadenza, come i nostri prodotti alimentari. Buona idea e già che ci siamo, organizziamo un po' meglio il magazzino. Sono arrivate alcune spedizioni e la situazione comincia a sembrare un po' caotica. Suona bene. Facciamo un elenco di tutto ciò che dobbiamo fare e iniziamo il prima possibile. Lo aggiungerò alla mia lista di cose da fare e cercheremo di fare il controllo dell'inventario e l'organizzazione del magazzino entro la fine della settimana. Lezione 66. Procurati un nuovo cane Ehi, hai pensato di prendere un nuovo cane? Penso che potrebbe essere un'ottima aggiunta alla nostra famiglia. Ci stavo pensando, ma è una grande responsabilità. Allevare un cane richiede molto tempo, impegno e denaro. Lo capisco, ma pensa a tutti i vantaggi di avere un amico peloso in giro. Un cane può portare tanta gioia e amore nella nostra vita. Questo è vero. E sarebbe bello che anche i nostri figli crescessero con un animale domestico. Ma dobbiamo assicurarci di essere pronti per l'impegno. Assolutamente. Dovremmo fare qualche ricerca sulle razze e sui metodi di addestramento per assicurarci di essere completamente preparati. E dobbiamo assicurarci di avere abbastanza spazio e tempo per dare al cane l'attenzione di cui ha bisogno. Non sarebbe giusto avere un cane e non essere in grado di prendersene cura adeguatamente. D'accordo. Dovremmo anche esaminare i costi di cose come cibo, cure veterinarie e corsi di formazione. Sì, dobbiamo assicurarci di essere finanziariamente pronti per un nuovo animale domestico. Ma se pianifichiamo tutto e ci impegniamo al massimo, penso che potrebbe essere un'ottima decisione. Sicuramente. Cominciamo a esaminare tutto e vediamo se prendere un nuovo cane è la decisione giusta per la nostra famiglia. Lezione 67. Animali potenti Sapevi che il leone è uno degli animali più potenti del mondo? Sì, ho sentito dire che sono molto forti e possono abbattere prede di grandi dimensioni. Giusto. Un leone maschio adulto può pesare più di 400 libre e ha potenti mascelle e artigli che usa per cacciare e difendersi. Posso immaginare che sarebbe piuttosto intimidatorio incontrarli in natura. Sicuramente. I leoni sono predatori apicali, il che significa che sono in cima alla catena alimentare del loro ecosistema. Hanno pochissimi predatori naturali, tranne forse altri leoni. E' incredibile pensare a come si siano evoluti fino a diventare così potenti ed efficienti nella caccia. E il loro potere non è solo fisico. I leoni hanno anche una struttura sociale complessa e collaborano in gruppo per abbattere prede più grandi. E' davvero interessante conoscere questi potenti animali e il loro comportamento in natura. Assolutamente. È un promemoria di quanto sia incredibile e diversificato il nostro mondo naturale. Lezione 68. Il problema del riscaldamento globale. Ti sei tenuto aggiornato sulle notizie sul riscaldamento globale ultimamente? È un problema così serio? Sì, ne ho sentito parlare molto. L'aumento delle temperature e lo scioglimento delle calotte glaciali sono davvero preoccupanti. Esattamente. Gli effetti del riscaldamento globale sono visibili ovunque, dall'innalzamento del livello del mare a disastri naturali più frequenti e gravi. E non è solo un problema per il futuro. Ne stiamo già vedendo le conseguenze, come lo sfollamento di persone a causa di inondazioni e siccità. Questo è vero. È davvero importante per noi agire ora per ridurre la nostra impronta di carbonio e rallentare la progressione del riscaldamento globale. Assolutamente. Possiamo apportare piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana, come ridurre il consumo di energia e utilizzare più spesso i mezzi pubblici. E non sono solo le persone a dover agire. Le imprese e i governi hanno anche la responsabilità di attuare politiche e pratiche che promuovano la sostenibilità e riducono le emissioni. E' una sfida enorme, ma non possiamo ignorare la realtà di ciò che sta accadendo. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni a questo problema globale. Lezione 69. L'aria condizionata è rotta. Fa davvero caldo qui dentro. Penso che il nostro condizionatore sia rotto. Sì, non sembra funzionare affatto. Pensi che dovremmo provare a farlo riparare o semplicemente comprarne uno nuovo? Non ne sono sicuro farlo riparare potrebbe essere più economico, ma se si tratta di un'unità vecchia, potrebbe essere meglio investire semplicemente in una nuova. Questo è un buon punto. Inoltre, un nuovo condizionatore d'aria potrebbe essere più efficiente dal punto di vista energetico e farci risparmiare sulla bolletta elettrica a lungo termine. Questo è vero. E dovremmo anche considerare l'impatto ambientale. Se acquistiamo una nuova unità efficiente dal punto di vista energetico, faremo la nostra parte per ridurre la nostra impronta di carbonio. Giusto. D'altra parte, se riusciamo a far riparare la vecchia unità, non aumenteremo i rifiuti e l'inquinamento di una nuova unità. Anche questo è un buon punto. Dovremmo anche verificare se la riparazione è coperta da garanzia o se dobbiamo pagarla di tasca nostra. E se decidiamo di acquistare un nuovo condizionatore d'aria, dovremmo cercare diversi modelli e marche per trovare quello migliore per le nostre esigenze. D'accordo. Dovremmo considerare fattori come dimensioni, capacità di raffreddamento, efficienza energetica e costi prima di prendere una decisione. È sicuramente una decisione importante, soprattutto durante i caldi mesi estivi. Dovremmo valutare attentamente le nostre opzioni prima di prendere una decisione definitiva. Lezione 70. Porta il bambino al parco giochi Ehi, stavo pensando di portare nostro figlio al parco giochi questo pomeriggio. È una giornata così bella fuori. È un'ottima idea. Nostro figlio lo adorerebbe. A quale parco giochi stavi pensando? Stavo pensando a quello nel parco vicino a casa nostra. Ci sono molte cose diverse su cui far giocare nostro figlio, come altalene, scivoli e una sabbiera. Sembra perfetto. A che ora stavi pensando di andare? Che ne dici dopo pranzo? Potremmo preparare un picnic e mangiarlo lì. Questa è una buona idea. Potremmo portare dei panini, della frutta e magari degli snack. Sì, e potremmo anche portare una palla o un frisbee con cui giocare. E non dimenticare crema solare e cappelli. Non vogliamo prendere troppo sole. Ottima osservazione. E dovremmo anche portare delle bottiglie d'acqua per mantenerci tutti idratati. Sicuramente. È importante rimanere idratati, soprattutto quando fuori fa caldo. Non vedo l'ora di passare del tempo di qualità con nostro figlio al parco giochi. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ce ne siamo andati. Anch'io. È importante trascorrere questi momenti con nostro figlio e creare dei ricordi divertenti insieme. D'accordo. Cominciamo a preparare tutto per la nostra piccola avventura al parco giochi. Lezione 71. La meravigliosa Disneyland. Sei mai stato a Disneyland? No, non l'ho fatto. È davvero così meraviglioso? È incredibile. È come un altro mondo. Ci sono così tante giostre e attrazioni diverse e tutto è così ben tematizzato. Sembra molto divertente. Qual è la tua corsa preferita? Questa è una domanda difficile. Adoro Space Mountain e Indiana Jones Adventure, ma amo anche i classici come Pirati dei Caraibi e Haunted Mansion. Wow, sembra che ci sia qualcosa per tutti lì. Assolutamente. E anche le sfilate e gli spettacoli sono incredibili. Ti senti davvero come se fossi in un posto magico. Ho sentito dire che anche lì il cibo è abbastanza buono. Sicuramente lo è. Ci sono così tante opzioni diverse, dai classici Corn Dog e Cerros ai ristoranti più esclusivi. È bello saperlo. Allora, quando pensi che dovremmo organizzare un viaggio a Disneyland? Che ne dici del prossimo mese? È un po' più fresco allora e le code non sono così lunghe. Sembra un piano. Sono davvero entusiasta di vivere tutta la magia di Disneyland con te. Lezione 72. Guarda un dinosauro nella vita reale. Hai mai desiderato vedere un dinosauro nella vita reale? Sarebbe incredibile. Sfortunatamente, si sono estinti milioni di anni fa, quindi non è possibile. Bene, ci sono alcuni posti dove puoi vedere i loro fossili e persino alcuni dinosauri animatronici. Davvero? Dove puoi vederlo? Ci sono alcuni musei e parchi a tema che ospitano mostre di dinosauri, come l'American Museum of Natural History e Jurassic Park. Sembra interessante. Sei mai stato in qualcuno di questi posti? Sì, sono andato al Field Museum di Chicago l'anno scorso e hanno avuto un'incredibile mostra di dinosauri. Avevano modelli a grandezza naturale di T-Rex e altri famosi dinosauri e persino un vero scheletro di un triceratopo. Wow, deve essere stato fantastico. Pensi che potremmo organizzare un viaggio per vedere dei dinosauri qualche volta? Sicuramente. Penso che sarebbe un'ottima esperienza. Potremmo fare qualche ricerca e trovare le migliori esposizioni di dinosauri in circolazione. Sembra un piano. Facciamolo. Lezione 73. Cantante super famosa. Hai sentito parlare del prossimo concerto musicale con la famosissima cantante coreana? No, non l'ho fatto. Chi è il cantante? Sono i BTS. Sono un gruppo K-pop che è diventato molto popolare in tutto il mondo. Oh, ne ho sentito parlare. Hanno delle belle canzoni. Sì, lo fanno. Stavo pensando di comprare i biglietti per il loro prossimo concerto in città. Vuoi venire con me? Sembra molto divertente. Quando è il concerto? È il mese prossimo. Possiamo verificare le date e la disponibilità dei biglietti online. Questa è una buona idea. Quanto costano i biglietti? Sono un po' costosi, ma ne vale la pena per un gruppo così popolare. Possiamo anche verificare alcune offerte o sconti. Ok, facciamolo. Sono entusiasta di vederli esibirsi dal vivo. Ottimo, lo esaminerò e ti ricontatterò con i dettagli. Lezione 74. È necessario acquistare articoli di cancelleria. Ehi, hai bisogno di comprare articoli di cancelleria? Sì, lo so. Ho bisogno di penne e quaderni. Va bene, andiamo insieme alla cartoleria. Hai preferenze per il tipo di penne o quaderni? Preferisco le penne e gelle per i tacquini. Bastano solo alcune semplici con carta a righe. Certo, lo terrò a mente. Ti serve altro? No, solo queste due cose per ora. Va bene, possiamo anche controllare se hanno altri oggetti utili di cui potremmo aver bisogno. Sembra una buona idea. Vuoi andare oggi? Sì, possiamo andare dopo il lavoro. C'è un negozio di articoli di cancelleria nelle vicinanze e non ci vorrà molto per arrivarci. Perfetto. Allora prevediamo di incontrarci lì alle 18. Va bene, ci vediamo lì alle 6. Lezione 75. È necessario acquistare articoli di cancelleria. Stavo pensando che sarebbe bello fare un viaggio in traghetto questo fine settimana. Il tempo è fantastico e sarebbe un bel cambio di passo. Sembra un'ottima idea. Dove stavi pensando di andare? C'è un traghetto che va su un'isola vicina. Potremmo trascorrere la giornata esplorando l'isola e poi prendere il traghetto per tornare la sera. Sembra perfetto. A che ora parte il traghetto? Parte alle 10 del mattino e ritorna alle 18. Avremo circa 8 ore per esplorare l'isola. Sembra un sacco di tempo. Dobbiamo prenotare i biglietti in anticipo? Sì, penso sia meglio prenotare in anticipo, soprattutto se è un fine settimana. Posso prenotare i biglietti online oppure possiamo andare al terminal dei traghetti e comprarli di persona. Sto bene con entrambe le opzioni. Andiamo al terminal e compriamo i biglietti di persona. Sarà più facile. Bene, prevediamo di incontrarci al terminal alle 9 e 30 all'ora. Possiamo acquistare i biglietti e poi fare colazione prima di salire sul traghetto. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Lezione 76. Hai avuto notizie del nostro amico di recente? Ehi, hai sentito il nostro amico Alex di recente? Sì, mi ha chiamato ieri. Ha detto che vuole parlarci di qualcosa di importante. Davvero? Di cosa ha detto che si trattava? Beh, vuole prendere in prestito dei soldi da noi. Oh, capisco. Quanto deve prendere in prestito? Non l'ha detto specificamente, ma penso che siano circa 1000 dollari. Emh, non sono sicuro di essere a mio agio nel prestare così tanti soldi. Cosa ne pensi? Capisco la tua preoccupazione, ma Alex è un nostro buon amico da molto tempo. Penso che dovremmo aiutarlo se possiamo. Capisco il tuo punto di vista. Ma temo anche che se gli prestiamo dei soldi, potrebbe non essere in grado di restituirci i soldi. Ciò potrebbe causare problemi alla nostra amicizia. Questa è una preoccupazione valida, ma potremmo anche impostare un piano di pagamento e farci rimborsare nel tempo. Potremmo anche redigere un accordo scritto per assicurarci che tutto sia chiaro. Mi piace l'idea. Parliamo con lui e vediamo cosa ha in mente. Suona bene. Possiamo trovare una soluzione insieme. Lezione 77. Hai sentito parlare di Keu? Ehi, hai mai sentito parlare di Keu? Kufu? No, non credo di averlo fatto. Cosa c'è? È un'arte marziale che ha avuto origine in Cina. Sono davvero interessata a impararlo. Oh, sembra interessante. Perché vuoi imparare il Keu? Sono sempre stato interessato alle arti marziali e penso che Keu abbia molte tecniche uniche che mi piacerebbe imparare. Inoltre, è un ottimo modo per mantenersi in forma. Questo è un buon punto. Hai dato un'occhiata a qualche corso locale? Sì, ho trovato alcuni posti nelle vicinanze che offrono corsi di Keu. Sto pensando di iscrivermi a uno. Sembra un'ottima idea. Forse mi unisco a te e possiamo imparare insieme. Sarebbe fantastico. Più sono e meglio è. Lezione 78. Celebrare il Natale. Ehi, hai pensato a cosa fare per Natale quest'anno? Non proprio. Hai qualche idea? Beh, potremmo fare la tradizionale riunione di famiglia, o potremmo organizzare un viaggio da qualche parte. Emh, un viaggio potrebbe essere bello. Qualche suggerimento? Che ne dici di un paese delle meraviglie invernali come le Alpi o magari di una vacanza al mare nei Caraibi? Oh, suonano entrambi alla grande. Ma dobbiamo pensare anche al budget. Vero. Potremmo anche fare un piccolo scambio di regali e fare una bella cena insieme. Anche questa è una buona idea. Si tratta comunque più di passare del tempo con i propri cari. Esattamente. E possiamo ancora renderlo speciale con alcune decorazioni e magari anche una maratona di film natalizi. Lezione 79. La visita di un nostro amico dall'estero. Ehi, hai notizie del nostro amico che viene a trovarci dall'estero? Sì, le ho parlato ieri. È entusiasta di vederci dopo tutti questi anni. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che l'abbiamo vista. Sarà fantastico aggiornarsi e vedere come sta. Sicuramente. Rimarrà per qualche giorno, giusto? Sì, starà qui per 5 giorni. Penso che dovremmo organizzarle delle attività divertenti da fare mentre è qui. È un'ottima idea. Potremmo portarla in alcuni dei nostri ristoranti preferiti, e magari anche organizzare una gita di un giorno in una città vicina. Sì, e potremmo anche farle visitare la città e vedere alcuni dei nuovi posti che sono stati aperti dall'ultima volta che è venuta. E non dimenticare lo scambio di regali il giorno di Natale. Le ho già comprato un regalo. Oh, giusto. Anche questo sarà divertente. Devo ancora capire cosa regalarle. Bene, abbiamo ancora qualche giorno per scoprirlo. Concentriamoci sull'assicurarci che la sua visita sia memorabile. D'accordo. Non vedo l'ora di incontrarla e creare nuovi ricordi. Lezione 80. Come giocare a scacchi Ehi, hai mai giocato a scacchi prima? Sì, l'ho giocato un paio di volte, ma non sono molto bravo. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di iniziare a giocare a scacchi e mi chiedevo se potessi insegnarmi a giocare. Certo, sarei felice di insegnarti. È un bel gioco e può essere molto divertente una volta che ci si abitua. Sarebbe fantastico. Da dove dobbiamo iniziare? Bene, la prima cosa che devi sapere è come si muovono i pezzi. Il pezzo più importante è il re e devi proteggerlo in ogni momento. La regina è il pezzo più potente e può muoversi in qualsiasi direzione. Ok, che ne dici degli altri pezzi? I vescovi si muovono in diagonale, i cavalieri si muovono a forma di L e le torri si muovono orizzontalmente o verticalmente. I pedoni si muovono in avanti di uno o due spazi alla prima mossa, e poi di uno spazio alla volta. Ho capito. Allora come si fa a vincere la partita? Vinci la partita mettendo il re del tuo avversario in scacco matto, il che significa che è sotto attacco e non può sfuggire alla cattura. Sembra piuttosto semplice. Vuoi giocare adesso? Certo, configuriamo la lavagna e iniziamo. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale e guarda altri video dal nostro canale. Grazie. Grazie.